Ciao a tutti, come va? Io sono Roberto Borrelli, grazie per essere tornati sul mio canale. Chi non è ancora iscritto lo può fare subito, sotto trova la possibilità di iscriversi gratuitamente a questo canale. Bisogna ricordarsi di spuntare la campanellina per essere sicuri di essere avvisati ogni volta che metto dei video. Siamo quasi alla fine di maggio e come solitamente faccio alla fine di ogni mese vado a vedere che cosa è successo un pochino con i miei vari programmi. Questa volta e per questa fine settimana voglio mettere a un prezzo davvero basso il mio programma Lotto Nazionale 2021, l'ultimissima versione che vi consiglio assolutamente di avere. È un programma che lavora calcolando dei pronostici solo ed esclusivamente per la ruota nazionale, quindi sono molto ristretti essendo pronostici per una sola ruota. Vi faccio vedere come sono preparati e anche vi faccio vedere un pochino che risultati possono dare nel tempo. Allora questa è la prima videata, potete aggiornare le estrazioni da server 1, server 2 o server 3. Se avete solo server 1 va bene lo stesso, non c'è problema. Il programma è sempre lo stesso se avete la versione 2021. Ok, chi non ce l'ha mi raccomando segua sotto il link per ottenerlo oppure mi scriva al numero Whatsapp. È un programma per Windows, non mi chiedete programmi per Android, cellulari eccetera. Questo funziona con Windows, quindi tirate giù dalla soffitta un vecchio computer Windows perché va bene anche un computer di tanti anni fa. Il programma è facilissimo da usare perché una volta installato e se avete difficoltà vi aiuto io personalmente, non ci sono call center, mi chiamate, ci sono io, anche sabato e domenica. Se vado al mare a fare il bagno no, adesso ancora non è il momento. Va bene, allora vi faccio vedere come funziona e che cosa è successo durante il mese di maggio 2021. Da questa videata, che è quella principale, si accede alla videata di ricerca. Vedete qui, accedi alla videata di ricerca e viene fuori questo pannello dove è possibile scegliere uno o l'altro metodo, ma sono quattro metodi in tutto. Ognuno calcola dei pronostici secondo un algoritmo differenziato ma molto molto efficace. Allora, come si fa a scegliere quale pronostico mettere in gioco? Sotto, vedete che c'è un indicatore di validità, quindi quando è verde può semplicemente dare buoni risultati, ho scritto perché in effetti le condizioni sono state trovate. E perché scegliere un pronostico in verde piuttosto che uno in rosso? Ok, come questo. Attenzione, non è un pronostico nuovo questo, è un pronostico basato sulla prima estrazione di maggio. Quindi non giocatelo, non è questo da mettere in gioco. Però vi spiego perché questo è in rosso e questo è in verde. Perché il metodo, o meglio l'algoritmo, è sempre valido. Se trova le condizioni in modo più sicuro, diciamo, trova le condizioni che sono richieste dal programma, allora vi dà qui sotto un indice di validità, che attenzione non significa sicurezza. Un indice di validità in rosso e comunque per selezionare un pochino i metodi da giocare, i pronostici da giocare, seguiamo solo quelli in rosso. Quelli in verde li possiamo comunque seguire se, perché sono comunque validi, se magari capita che ci sono i due numeri principali, vedete questi due numeri principali, che magari sono una convergenza con un altro mio programma, oppure con qualche altro numero che voi seguite per qualche altro motivo, oppure semplicemente perché sono dei numeri che vi piacciono. Ok, io per esempio quando capita che mi dai il 1551, li gioco. Perché 1551 sono due numeri che mi piacciono, verde o rosso, non importa. Io quando c'è 1551, seguo questo pronostico. Ma se non avete delle preferenze su numeri, alcuni numeri piuttosto che altri, allora cliccate i diversi metodi, vedete, e seguite solo uno di quelli segnalati in rosso. Andiamo a vedere un pochino che cosa è successo con i pronostici di maggio. Io ho già fatto una verifica, un controllo, ho visto che ci sono stati dei grossissimi risultati, per esempio con il metodo numero 2, questo, col metodo numero 2. Allora, intanto già se prendiamo il primo del mese, vedete, il primo pronostico del mese, questo calcolato alla estrazione del 3 maggio, ok, al primo colpo non ha dato niente, vedete qui, questi sono i pronostici, ambo secco e poi due sestine per ambo eterno. Qui a destra vediamo i risultati al primo colpo, al primo colpo, cioè il 4 maggio, non ha dato nulla, io ho questo bottoncino avanti per vedere che cosa è successo la volta successiva, ed ecco un ambo nella sestina la volta successiva. Mi direte, ma è facile fare un ambo in sestina? Io vi dico, no, non è facile, assolutamente, non è facile avere una costanza negli ambi in sestina. Io conosco una persona che gioca solo ed esclusivamente ambi in sestina, e questo programma lo usa in modo molto, molto proficuo, perché lui dice, ma io, è vero che l'ambo in sestina rende poco, ma io ci carico un pochino di più, chiaramente, e le possibilità sono sempre molto migliori rispetto a un ambo in, un ambo secco, un ambo in tersina. Però noi diciamo, ecco, ci abbiamo anche la possibilità dell'ambo secco. Questo è un metodo che ha dato risultati subito, ok, cioè al secondo colpo, sulla ruota nazionale, quindi ruota secca. Ma è interessante quello che è successo con il pronostico successivo. Guardate qui a sinistra, mi sposto al pronostico successivo, quello calcolato il 4 maggio. Oh, attenzione, è vero che se uno sta seguendo un pronostico, non può seguire anche quello calcolato la volta successiva. Quindi, quando seguite un pronostico, continuate per le vostre 5-6 volte, 5-6 colpi, e non lasciatelo stare, insomma. Non accavallate oltretutto i pronostici, altrimenti si spende troppo, no? Bisogna andare con molta calma. Mai farsi prendere la mano, eh. Attenzione, mai farsi prendere la mano, perché è un gioco dove la sicurezza non c'è mai. Non date retta a quelli che vi dicono, guarda, questi dubbi sono sicuri, niente è sicuro in questo mondo. Solo una cosa brutta, ma lasciamo stare. Allora, pensiamo alle cose belle. Allora, siamo al 4 maggio, pronostici calcolati 65-56, e qui ci sono le due sestine. Andiamo a vedere, al primo colpo non è successo niente, al secondo colpo abbiamo il terno in sestina. Era un pronostico segnalato in rosso, in rosso sempre, 42-25-57, terno in sestina. Il terno in sestina non è solo difficile, è difficilissimo. E questo l'ha dato. E non è raro, non è raro che dia il terno. Sono capitate delle quaterne, quindi io direi 10 centesimi sulla quaterna mettetevi, perché non si sa mai. Quindi il terno comunque va seguito, assolutamente se seguiti la sestina, ma è ovvio, no? Questo neanche a dirlo. Poi, gli altri metodi, allora, c'è una cosa da dire, che gli altri metodi, vediamo un pochino, no? Per esempio questo metodo 1, vedete, anche se era in verde, il giorno 4, ha dato lo stesso risultato, perché comunque le condizioni erano state trovate. Siamo noi che, per poter scegliere che cosa giocare, diamo priorità a quelli in rosso. Bene, prendiamo il metodo numero 3 e andiamo al pronostico del 13 maggio. Vi faccio vedere quelli più eclatanti, no? Quelli più eclatanti, 13 maggio. Perché vi dico giochiamo anche Lambo Secco? Perché, guardate questo, primo colpo, giocata numero 1, niente. Secondo colpo, niente. Terzo colpo, abbiamo Lambo Secco, 77, ok? E questo diversi l'hanno preso, eh? 77, Lambo Secco, con il programma, attenzione, stiamo parlando del programma Lotto Nazionale 2021. Lotto Nazionale 2021. Vedete che facilissimo da usare. Si clicca, un bottoncino e basta. Adesso, cosa conviene fare? Lo dico per chi ha il programma o per chi volesse avere questo programma e quindi oggi stesso lo può prendere, e quindi da domani, sabato, può cominciare a utilizzare questo programma. Anche sfruttando, approfittando, non sfruttando, approfittando del fatto che l'ho messo a un prezzo molto basso oggi. Bene. Mi sono spostato sul metodo 4, metodo 4, al 3 maggio 2021. Così vi spiego che cosa è utile giocare adesso, nella prossima... Qual è il prossimo pronostico per sabato? Allora, andiamo al metodo 4. Cioè, vi spiego anche perché ho pensato al metodo 4. vediamo che il pronostico calcolato era questo. Vediamo se ha dato risultati. Primo colpo, secondo no, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, all'ottavo ha dato l'ambo 77, che dall'altra parte ci ha dato l'ambo secco, qui ce l'ha dato in sestina. Ok? Ha dato questo risultato. Poi, che succede? Con il metodo 4, andando avanti, quindi il pronostico era quello del 3 maggio, andando avanti, 4 maggio è in verde. Vedete sotto, verde. Poi ancora verde. Poi ancora verde. 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 Ok. Qui c'è un ambo, ma in realtà non si è allineato, ma non importa. Ok. E siamo arrivati? Adesso non vado fino all'ultimo, ma vi ho fatto vedere che praticamente dal pronostico del 3 maggio, che ha dato oltretutto risultati comunque, il metodo 4 poi non ha dato mai più, per tutto il mese, un pronostico in rosso, mentre lo dà al momento. Quindi, questa volta il pronostico lo può avere solo chi ha questo programma. Basta cliccare su, basta mettersi su metodo 4. Chiaramente bisogna avere l'estrazione aggiornate al 27 maggio. eh. Quindi, metodo 4, o quarto, come volete, andare su ultima, nuovo pronostico, e troverete il pronostico pronto da seguire per 5-6 colpi. Ok. Scusatemi, ma questa volta il pronostico è solo per chi ha il programma. Ma è facile averlo oggi perché sta a un prezzo davvero basso. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che avrete messo il mi piace, fatelo, perché spesso, questa volta non ho messo dei pronostici nuovi, ma spesso lo faccio. Ok. Chi non mette mi piace e poi dopo non li prende i pronostici. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e potete contattarmi tramite WhatsApp per chiedere 2021 lotto nazionale. Attenzione, nazionale. Ciao a tutti, ci abbiamo messo 10 minuti scarsi. Grazie, buona serata, buon fine settimana e mi raccomando andate a vaccinarvi. I cinquantenni come me via, subito a vaccinarsi. E i quarantenni, forza, ragazzi, non è che... Il vaccino è l'unica cosa che fa in modo che possiamo uscire da quest'incubo. Ci stiamo uscendo ma in modo un po' forzato mi pare, no? Cerchiamo di fare in modo che poi quando arriva settembre non torniamo nell'incubo. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie. Grazie.